È un primo stop agli affitti turistici selvaggi a Venezia. È la prima volta che in Parlamento si riconosce la necessità di disciplinare la materia. L'emendamento al decreto legge aiuti presentato dal deputato veneziano Nicola Pellicani è stato approvato in commissione alla Camera. Assegna al Comune la facoltà di individuare i limiti massimi temporali e di case che possono essere affittati ai turisti. Lo scopo è favorire locazioni di lunga durata e quindi la residenzialità in una città arrivata ai limiti dello spopolamento. La norma terrà comunque conto della funzione di integrazione al reddito di chi affitta un'unica abitazione. Quello che avviene in tutta Europa avviene a Barcellona, avviene ad Amsterdam, avviene a Berlino, avviene a Ginevra, avviene a New York. Dappertutto c'è una disciplina. Si farà nelle principali città occidentali ma la reazione di Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, l'associazione dei proprietari di casa, non è stata entusiasta. Stando a lanza l'emendamento è definito liberticida dagli scopi occulti, di dubbia costituzionalità, esasperatamente dirigista, di ottuse politiche punitive e che incrementerà gli affitti in nero e renderà Venezia deserta e povera nei periodi di bassa stagione. Diverso il commento del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che rivendicando contributo e sostegno alla stesura dell'emendamento, ha definito il turismo una risorsa fondamentale che però va regolata e regolamentata per trovare un equilibrio tra chi vive in città e chi viene a visitarla e salvaguardare così l'identità di Venezia. Esulta anche Giovanni Leone, tra i promotori di ATA, Alta Tensione Abitativa, che con il sostegno tra gli altri del regista Andrea Segre, quest'inverno aveva iniziato ad introdurre la possibilità di una norma del genere. A metà giugno, durante un'audizione in commissione alla Camera, il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto aveva detto che la città è letteralmente snaturata dal turismo di massa e può risolvere i suoi problemi solo con una legislazione speciale che parta dalla limitazione agli affitti turistici. La commercializzazione di questi alloggi turistici avviene per lo più in maniera abusiva. è organizzata da agenzie internazionali che hanno sede in altri paesi e quindi comporta una forte illusione anche di quelle che possono essere le imposte.